Piangere un tempo mai vissuto. Hai ricordi prima dell'esodo planetario? Ricordare non è nostro compito. Abbiamo vinto la guerra ma perso il pianeta. L'umanità ha dovuto lasciare la Terra e dimenticare cosa significasse chiamare un luogo casa. L'invasione fallisce. Noi perdiamo tutto. Tu sai cosa mi sta capitando? È capitato lo stesso anche a me. Hai rubato il loro potere. Come lo controllo? Devi morire. Ogni giorno. Vogliono conquistare il resto del mondo. Ma con te l'esito può cambiare. Non siamo equipaggiati per affrontarli. 50 metri. 20. 10. Ti ha trovato. La temperatura su questo pianeta fluttuo pericolosamente. Qui ogni cosa si è evoluta per uccidere gli umani. Insieme sopravviveremo. Al prossimo episodio. Sam. Sam.